L'appuntamento più prestigioso, il palcoscenico, più emozionante, le giocatrici più forti, le squadre più quotate, tutto questo è la Final 8 di Coppa Italia, le Finals 2022 di Coppa Italia. Subito la possibilità in controvie, dovranno sbloccare il punteggio sulla perla persa. Il tiro è il grande gol da parte di Bevere Ligia Rua. Pallone dentro per conclusione, vincente di Pizzotto, ottimo pallone di Manojlovic. Ci prova Ramona Manojlovic e la mette dentro, Rete, da parte di Manojlovic, ha trovato un buco nel muro. Aspetta, sulla linea di porta Ferrari, ZDF non si lascia però intimidire. Nascovic, cioè il taglio si coordina e va a segnare un gol impostante. Lauretti Pados perché è un gol che rompe il break. 37-33 è il risultato finale, la Ioni Salerno dunque va in semifinale battendo la Cellini Padova. Vanessa giocava. Vanessa giocava, meritatamente. Posso confermare che avevi cerchiato il nome giusto. Grazie. Grazie a tutti.